Ciao a tutti, bentravati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente Oggi finalmente via vittoria dopo aver conquistato l'ultima medaglia nello scorso video Corrado è stato piuttosto semplice da sconfiggere, oddio, leggermente più forte degli altri capi palestra Ma il livello al quale siamo ora è davvero davvero alto E ovviamente, beh, la Lega mi sa che non sarà troppo difficile Comunque, avventuriamoci anche se dovrei comprare dei repellenti prima Oh, ora sono pronto, selezioniamo il repellente Max perché almeno ragazzi evitiamo incontri non voluti E pronti ad andare Oh, guarda qua com'è bello esplorare sto percorso Ehi tu, signorina che nuota Sono diretta anch'io da Lega Pokémon e non importa se sarà una sfida durissima Tu sei ferma qui a nuotare No ad andare alla Lega Pokémon Scusami se ti correggo, Nora nuotatrice Posizione classica Piegata, evitiamo termini tecnici Oh, io sto amando Drifblim ogni giorno di più ragazzi Un brutto colpo Senza che fosse causato dalla mia amicizia con i Pokémon Il mio affetto è diverso qui Usiamo i termini giusti Che sfida durissima, eh già Ti aspettavi che era pizza e fighi? Poi perché pizza e fighi? Mi dispiace, sono in costume da bagno Meno male, perché se eri in acqua e la rivestita era un problema diverso Mentale, ma un problema comunque Cioè non ho capito il senso di questa frase Mi dispiace Pensava che volessi farla salire in groppa a Bibarel Te lo puoi scordare Vediamo un po' Notare e lottare Io ora vorrei capire il senso di questa frase Me lo spiega? Quando indosso il bikini non so dove mettere le mie Pokéball Almeno Almeno Questa dice non so dove mettere le Pokéball Non come l'altra Che diceva in rosso fuoco Che diceva Mi pare che fosse rosso fuoco e verde foglia Sicuramente mi sbaglio Che dice Dove tiene una ragazza le Pokéball in costume da bagno? Eh eh, segreto Quella lascia pochissimo All'immaginazione, se permettete Ma io sono molto preoccupato da questo notatore Che quando attacca fa la Kamiamea O onda energetica per i meno addetti ai lavori Eccolo, 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 eccolo Però apre un po' troppo le braccia Apre quando la lancia Per quanto riguarda invece i Super 4 Li affronterò due a due E le lotte non dovrebbero potrarsi troppo a lungo Contro i Super 4 Invece Camilla avrà un episodio Dedicato solamente a lei Perché è Camilla È ovvio che Serve un episodio solo per lei La campionessa ci mancherebbe altro Vabbè, primo perché è Camilla Poi perché è la campionessa ovviamente, certo E le sfide non sono ancora finite Ce n'è un altro qui Accipicchia Vabbè, insomma Stiamo andando a Via Vittoria E dopo Via Vittoria alla Lega Insomma, quindi è normale Che ci siano molte sfide Ed io le affronterò Se non mi vedi però Eh, mi passa un po' la voglia Forse non sembra Ma anche se non è ben mezzo Di un viaggio E no, perché stavi fermo Per questo non sembrava Però i nuotatori di Alola Erano più grossi Boh, per certo però Che sta proprio Imboscata qua dietro Pioggia danza Poi, tra l'altro MT Utilissima Proseguendo Dove andiamo a parare? Vediamo un po' Ok, questo fa la guardia a cosa? Ok No, l'altra non la schippo Ma la spido ora Dopo lui Sergio Il zì non è che se la passa proprio bene Qua si è finito i PP E delle mosse più forti Ovvero Shaguro e Palla Ombra Dato che sono speciali Perché poi Spettro Tuffo è fisica Ma lui non è fisico Anzi in attacco Una roba schifo quindi Bene, quanto manca Per arrivare Poi dove? Che quello Comunque sia il tratto qua È abbastanza lungo Il tratto marino Ma ne è troppo vicino Ah, ci siamo quasi, dai Almeno lì c'è via Vittoria Possiamo recuperare un po' di salute Dovrebbe esserci un centro Pokémon Prima di arrivare Vittoria Marinaio Fatti sotto Più che altro Ciò che mi preoccupa è Barry Che se davanti a Drifblim Lui manda sicuramente Staraptor E non lo posso toccare Letteralmente Comunque Andiamo avanti Dai che ci siamo Su Ah, avanti Manca poco Qual è il mio tipo ideale? Di sicuro lo devi sapere apprezzare il mare Eh, allora cara No, proprio no Lasciamo perdere Oddio, più che il mare La spiaggia, eh Per la sabbia e tutto il resto Ed io la spiaggia A cento metri da casa Vi lascio immaginare Quanto sono contento Ehi, dai, dai Gianni Dai Ah, Gianni Però mi deludi Qui cosa c'è? Niente Lì non c'era nulla allora Ehi, quanto veloce Questo qui preferisce Nuotare che surf Piuttosto che surfare Ma ci resta in acqua a nuotare Telemaco Wow, bel nome E schiacciata Yeah Eh sì, perché i Pokémon Nell'anime era così più o meno Se lanci la Ball con più forza Il Pokémon esce più carico Non è vero Però Insomma Nella vita vera funzionerebbe Peccato che non esistono Quindi non lo sapremo mai Proseguiamo Ma mi sa che ci siamo Eh sì No, il Torni per l'entro ormai basta Dopo lo risuolo dentro La grotta Oh Cascata Però Non siamo ancora Arrivati all'obiettivo Di obiettivo Ne ho un altro io Ah, però Attenzione La musica anche qui c'è Eh no Ma c'è centro Pokémon Guarda Devo rovinare il pattern Perché non ho un'altra Mega Ball lì Che schifius Formano una L Però le Poké Ball La L è di pertente Ecco qua Mint Davanti a combattere E ora Via Vittoria Pensavo avesse una musica custom Invece no Musica delle grotte Se non sbaglio La musica delle grotte Questa no Allora Via Vittoria è un po' intricata Questa e non me la ricordo bene Quindi Andrò Tentativi Va bene Però abbiamo già qualche allenatore Un sensitivo Io riesco a vedere il futuro Prevegli la tua sconfitta In questo caso Hai ragione Però ripensandoci Io dovrei affrontare anche Un altro posto Isola Ferrosa Volevo farlo Prima di arrivare alla Lega Anzi Prima di affrontare Via Vittoria Ad essere sinceri Però Lo farò post game A sto punto Non è che cambia qualcosa Cambia solo il livello Dei nemici E direte Beh mica è poco Sì però Più che altro Quella si fa per prendere L'uovo di Lucario Non è che la si fa Per qualche altra ragione O almeno è per quello Che la si fa Poi Se voi la fate per altri motivi Non lo so Ok Prendiamo la strada qui Che è una sfera Cura totale Ne ho 40 Tipo quindi No E quando dico 40 Intendo davvero 40 Allora andiamo qua sopra Dai Anche perché Non possiamo fare altro Dobbiamo solo scendere Qui c'è Qui c'è qualcosina No E qui No Qua si scende Quindi proseguiamo di qua Repellante Orisiamolo Yes Oh La fanta allenatrice Fammi un po' vedere Come te la sei cavata Fin qui Facciamo una lotta Gamer Gamer Facciamo un gioco Oddio Blissei Ah Ah ma qui è vero La vita qui scende veloce Mi avete fregato Ilca Direi che me la sono cavata bene Fin qui Vero Tamara E che altro c'è qui Elisir Max Buono Questo serve Serve Specialmente Se ti finisci Palla ombra Con un attimo Oh Allora No Qui era per tornare Ah qua Poi ci si va Serve anche la bici Che due palle Allora Aspetta Questo è facilissimo Dai Si va così Ti sposta questo qui Dai Biduffo Ok E Si Sto Sto andando E questo qui Vai Grande Allora Invece per questo Si fa così E si porta qui Si fa Spaccaroccia Bisogna farlo al contrario Ma ok Quindi niente Andiamo sopra Ecco si scende infatti Si Per forza Qui Ma Si Eh Non mi spostava Allora Ah questa è quella Corta Bene Prende lo strumento Solamente Vero Si Eh si qua Il trick era da rifare Perché ho spostato per sbaglio Quello sopra Quello a fianco prima Ok Ora ci siamo E qua per forza Bisogna per forza Proseguire di qua Non c'è altra strada Bene Questa qui Vuole sapere Se ha la stoffa Per spidare Super 4 La risposta è No Annina Allora Adesso qui Beh Qui la cosa è solo una Spostare Per forza Questo Purtroppo Eh Che devo fa Ciao Tu chi sei Fammi verificare Quanto è Elden a tutti i pokemon Lui è un veterano O un esperto Veterano Si Gli esperti Mi sa che non ci sono qui Perché esiste la categoria esperto No Ma non ci posso credere Ok Proseguiamo Ti indicano anche un po' La via ai massi Nella maniera in cui sono posizionati Dunque lì c'è Un cintura nera Poi mi sa che Abbiamo quasi finito Da dire il vero La vittoria Non è molto lunga Da attraversare Ma C'è anche una fase Nel post game Che È possibile fare appunto Solo post Dove c'è Risetta Sì questa volta Non mi sbaglio Con risetta L'altra volta era Matilde Adesso Questa qui è risetta Per davvero però Non so perché Ma pensavo che stesse Nella grotta Invece qui Bene Si scende Dove si va Nell'acqua Ah Oh yeah Qui pure È un po' complicata La faccenda Se ricordo bene Ok Sì 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 Un po' una fregatura A dire il vero Io riesco a vedere il passato Sopra è futuro Sotto è il passato Il presente Lo vede qualcuno Ok Di qua Quindi per prendere L'oggetto E di là per proseguire Quindi io andrei a prendere L'oggetto prima Cascata Potrei anche visitare I posti che prima Non potevo Perché Non l'avevo cascata Drago pulsar Wow E questa serve Allora Bene Non ho un pokemon drago Potrei andare a catturare Ghibo Allora che ho Forza ma E questo è un domadraghi Che belli Domadraghi Sto cercando di far diventare Ancora più forte Un pokemon Già fortissimo di suo Ma mi deve aiutare Un domadraghi Va sempre aiutato Giacomo Più che Giacomo Lenzo direi Sono uguali Se aveva capelli rossi Era perfetto Poi sta Così a tre quarti Girato Bellissimo Ha un gabite Oddio Si evolve presto gabite 50 proprio No gabite Al 48 Al 48 gabite Invece ai dragon E' quello che si evolve Proprio per ultimo Non avevo proprio Nessuna chance Al 64 Se non erro Proprio tardissimo Però vabbè Ai dragon Fa paura come pokemon In bianco E nero è Il top Pokemon Proprio Oddio Qua si prosegue Vero? Si mi pare di si Qui si prosegue E qua E infatti Per tornare Di qua invece Che c'era Devo vedere Perché non ho visto Finiamo un attimo L'exploro Tattichello Perla Queste vanno ovviamente Rivendute A prezzi Esorbitanti Lì c'è un Incontro in doppio E di qua C'è una pokeball No un altro Allenatore Ah Questo è perché Se voglio Spidare Cioè se voglio Passare di qua Invece di andare dritto Quindi anche questi qui Vanno affrontati Per completismo Siamo una squadra In perfetta sincronia Come pensi di farcela Siamo una squadra Di fanta allenatori Preparati Perché siamo fortissimi Ah preparati Senza gli accenti Non è facile Capire subito Come va pronunciata La parola Però l'accento Su preparati Non c'era Siamo in perfetta Sintonia Io e la mia squadra Molto più di quanto Non siate voi due E questa ci riporta A vicino all'entrata Vero? Ah no Un'altra parte Ah ho capito Qua è dove eravamo prima Caramella rara Buono Beh le caramelle rare Però A drift blim Servirebbero Per stare a pari Con gli altri Se non altro Qui c'è nulla No Qui per scendere A pokeball Affida artigli Per far evolvere Weewile Snizzle in Weewile Mentre affilo dente E per Glygar in Glyscore Giusto Fatti un po' guardare Diventerà ancora più forte E incontrare tantissimi pokemon Ecco Ad esempio Qui si trova Risetta E' porzione post game Ovviamente Quindi scendiamo Torniamo dove eravamo prima Anzi no Perché qua eravamo Dove Dove andare Qui Ok Dunque No La strada giusta è di là Quindi Qui Ah no Qua è la strada giusta E di là Che cosa c'era di là No no Aspetta No la strada giusta È di là Non qui No no Non è qui Non è qui Questa è un'altra strada Vabbè Qua proprio Te l'hanno messa Guarda Devi fare così Dai Per la MT79 Nero pulsar Ne vale la pena Direi che ne vale davvero la pena Quindi Non ci resta che affrontare lui E poi Beh Siamo fuori Domadraghi I allenatori più forti Si radunano spontaneamente In questo posto Posserei dire Che è il posto ideale Per allenarsi Con i migliori Puoi dirlo forte Orfeo Eccoci Sento L'odore dell'erba E vedo la luce Siamo pronti allora No però ora rovina tutto quanto La musica del surf Una cosa veloce Una cosa veloce Con cascata Dai Voglio finire questo video Su una nota dolce Come questa musica Come sempre Vi ricordo che In descrizione Trovate il link Per Instagram E Telegram E se ancora non siete iscritti Al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo Ovviamente Al prossimo video Bye bye Grazie a tutti